Ciao Steve, benvenuto. Grazie a te Joshua per avermi invitato. Ultimamente si parla del cosiddetto ghiacciaio dell'Apocalisse. Agli albori delle varie storie sul cambiamento climatico, si parlava di un grande ghiacciaio che, sprofondando nell'oceano, avrebbe innalzato il livello delle acque al punto che tutti avremmo vissuto in piccole isole e che tutte le città sarebbero state sommerse. Che ne dici? Allora, nell'Antartide occidentale c'è un ghiacciaio chiamato Tuatis e soprannominato il ghiacciaio dell'Apocalisse. Secondo le credenze sul clima, quando questo ghiacciaio si staccherà e si disintegrerà, il livello del mare salirà di 3 metri. Ovviamente non è vero. Innanzitutto, il Tuatis non ha alcuna relazione con le emissioni. Secondo, l'Antartide occidentale si è raffreddata negli ultimi 20 anni. Il ghiacciaio Tuatis si trova in cima a un'area vulcanica. La paura di aumento del livello del mare è passata da 3 metri a 1-2 millimetri nei prossimi 50-100 anni, quindi niente. Ma ora è uscito un nuovo studio, secondo cui la disintegrazione del ghiacciaio Tuatis in realtà è iniziata negli anni 40 con El Nino. In questo momento ci troviamo in un anno di El Nino, che provoca un forte riscaldamento. È un fenomeno naturale che si verifica nel Pacifico e riscalda l'intero pianeta. E' dal 1940 il ghiacciaio Tuatis. Quindi, questa storia del ghiacciaio dell'Apocalisse, in collegamento al clima, è solo scienza spazzatura. Parleremo dell'effetto del nino-la-nigna tra poco. Ora parliamo del ghiacciaio, perché so che gli scienziati del clima e gli esperti dicono che ci sono isole nel Pacifico dove l'acqua sta salendo e la gente scappa. Tu come rispondi? Che non c'è un solo esempio. Abbiamo sentito parlare delle isole Marshall di Tuvalu, di altre isole del Pacifico e dell'Oceano Indiano. Dicono che il mare le sommergerà e che la gente dovrà andarsene. Ma non succede. Anzi, in molte di queste isole hanno guadagnato terra. Le isole Marshall, ad esempio, e Tuvalu. Non ci sono prove dell'inalzamento del livello del mare, che è stato piuttosto costante dapprima dell'industrializzazione. L'inalzamento del livello del mare è un fenomeno complesso. Non ha nulla a che fare con le emissioni. E queste isole non stanno affogando. Certe stanno addirittura crescendo. E nessuno sta fuggendo. Le loro economie vanno bene. È solo una delle varie bufale sul clima. Interessante. Però il New York Times, scrivendo della crisi dei migranti, dice che in realtà sono tutti migranti in fuga dagli effetti del cambiamento climatico. Io sono stato a Panama e ne ho intervistati molti. E nemmeno uno mi ha detto di essere in fuga dai cambiamenti climatici. Tutti mi hanno detto di essere in fuga dalla violenza della criminalità o dai regimi socialisti. Era sempre una delle due cose. Sì, era una buona domanda. Ma esistono esempi di persone in fuga dal cambiamento climatico? Esiste qualche luogo in cui il cambiamento climatico ha costretto le persone a fuggire in Europa o negli Stati Uniti? No, per niente. Non ci sono esempi di persone che fuggono da un'area a causa del clima. Le persone fuggono da governi malvagi o corrotti. o da un'invasione. Ma nessuno se ne va per il cambiamento climatico. Le persone possono spostarsi a causa della siccità, che però non c'entra niente con il cambiamento climatico. Le persone vengono dall'America Latina perché i nostri confini sono aperti e per molti ci sono più opportunità economiche qui. Qui il clima non c'entra niente. Il complesso industriale del clima ormai dà la colpa di tutto il clima perché ha condizionato per vent'anni gli studenti delle scuole secondarie a credere che il clima sia la radice di tutti i mali. Ma è falso. Parliamo del nino-nigna perché quello sì è un fenomeno planetario reale ma la stampa lo manipola ad arte per confermare le bufale climatiche. Puoi spiegare di cosa si tratta? Certo. Allora, il nino-laninia è un ciclo. Si chiama ciclo Enso ma noi la chiamiamo il nino-laninia. Il nino è un ciclo più caldo. La ninia è un ciclo più freddo. Parte dal Pacifico e non è per niente causato dall'uomo. Pensiamo che possa avere a che fare con il riscaldamento geotermico dell'Oceano Pacifico dove c'è l'anello di fuoco, i vulcani sottomarini. Potrebbe essere, ma nessuno lo sa con certezza, ma è ciclico e riscalda il pianeta. Durante il XX secolo c'è stato un significativo riscaldamento nella prima parte del XX secolo. Poi, nella parte centrale del XX secolo ha iniziato il raffreddamento. Poi, intorno al 1980 è cominciato il riscaldamento ed è proprio in quel periodo che è iniziata la serie di El Nino che viviamo ora. Ogni volta che c'è un El Nino il pianeta si riscalda. Poi, quando El Nino finisce, cessa El Nino, il riscaldamento. Inizia la fase, la ninia. E poi arriva un altro El Nino. Questo è ciò che abbiamo visto. Il 1998 è stato un anno molto caldo. Poi il clima si è raffreddato. Ci sono stati 14 anni senza riscaldamento, nonostante le emissioni. Poi, c'è stato un altro El Nino nel 2015 che ha innalzato la temperatura. E l'anno scorso c'è stato un altro El Nino e abbiamo fatto un altro passo avanti nel riscaldamento. Quindi, il vero motore del riscaldamento degli ultimi 40 anni e di cui parlano gli allarmisti è El Nino, non le emissioni. Perché tra un El Nino e l'altro non c'è riscaldamento, mentre le emissioni sono sempre elevate. Certi diranno, ma come facciamo a saperlo? Forse El Nino è un cambiamento climatico. Forse è causato dall'azione umana, dalle emissioni di anidride carbonica. Tu come rispondi? Perché alcuni sostengono che ci sia un riscaldamento o un raffreddamento globale e dicono che El Nino ne è la prova. Beh, El Nino viene dal Pacifico. È naturale. Non è causato dalle emissioni. Tutti concordano sul fatto che non sia causato dalle emissioni. Anche gli allarmisti. Insomma, è un fenomeno di lungo termine. Sì, è semplicemente un fenomeno naturale che non capiamo. E poi, quando El Nino finisce, entriamo nella fase laninia, durante la quale non c'è riscaldamento. Per esempio, all'inizio degli anni 2000, nonostante mille miliardi di tonnellate di emissioni, non c'è stato riscaldamento, perché c'era la ninia. Per me, questo significa che è El Nino a guidare il riscaldamento, non le emissioni. Le emissioni in sé non danno alcuna prova di riscaldare il pianeta, perché il riscaldamento avviene solo con El Nino. Quando El Nino finisce, il pianeta si raffredda un po'. Di certo, non c'è più riscaldamento. E intanto le emissioni aumentano. Quindi non si possono collegare emissioni e riscaldamento. Si può collegare El Nino al riscaldamento. Interessante. Io ti seguo su Twitter e ho visto che metti molti grafici che mostrano le temperature reali del pianeta. Se non sbaglio, da prima degli anni 70. E in realtà sono piuttosto stabili. Si alzano e si abbassano un po', ma sembra che non ci sia una vera differenza tra oggi e i primi dati. Giusto. Ed è El Nino. L'ultimo El Nino è stato nel 2015. e ha aumentato la temperatura. Ma poi, dal 2015, nonostante circa 500 miliardi di tonnellate di emissioni, non c'è stato riscaldamento fino al Nino successivo, nel 2023. Quando il riscaldamento è aumentato ancora, questi balzi sono così grandi che non sono spiegabili con le emissioni, che aumentano gradualmente. La teoria di Al Gore è che le emissioni sarebbero come mettere una rana in una pentola d'acqua e aumentare gradualmente il calore. Ma questo non è ciò che osserviamo nel mondo reale. Nel mondo reale, vediamo una temperatura costante fino a quando non c'è un anno di El Nino, in cui sale. Poi abbiamo di nuovo temperature stabili. Poi al successivo El Nino c'è un leggero aumento. E El Nino c'è da prima dell'industrializzazione. Quindi è abbastanza chiaro che il Nino non è spiegabile con le emissioni, perché è precedente alle emissioni. E anche dal punto di vista fisico non regge, perché le emissioni sono in graduale e continuo aumento, mentre il Nino è periodico e si vede il riscaldamento proprio negli anni del Nino. Molto interessante. Ora vorrei passare ad altro, all'ipocrisia dei veicoli elettrici. Perché l'industria del riscaldamento globale o raffreddamento globale o il cambiamento climatico poi non ha uno standard globale. Ci sono paesi come la Cina che ne approfittano. Stanno acquisendo il monopolio in certi settori e a volte riescono a intascare i nostri soldi pubblici per costruire i veicoli elettrici. Ho visto che hai parlato della differenza tra veicoli elettrici e ibridi e l'ho trovato interessante. Qual è la differenza, diciamo, tra i veicoli elettrici e quelli ibridi? I veicoli solo elettrici funzionano solo con l'elettricità, senza benzina. Gli ibridi vanno a elettricità e benzina. Stamattina il Washington Post ha pubblicato un articolo che mostra come alcuni ibridi siano in realtà più efficaci degli EV puri. Per me sono tutte stupidaggini. Nessuno dei due, nessun elettrico né ibrido, è più ecologico di un'auto a benzina. Se vai a vedere i fatti, i veicoli elettrici non cambieranno né miglioreranno il clima, non influiscono sull'ambiente in modo significativo. Costano solo di più e a pagare sono i contribuenti, i consumatori. A causa dei veicoli elettrici abbiamo gli schiavi, bambini che lavorano da schiavi nelle miniere del Congo, miniere di proprietà dei comunisti cinesi. Non puoi costruire un veicolo elettrico senza la Cina comunista, perché diversi componenti provengono dalla Cina comunista. E questo vale per tutte le tecnologie verdi. Più tecnologia verde, eolico, solare, auto, eccetera, siamo costretti a usare più diventiamo dipendenti dalla Cina comunista, pagando con i sussidi della legge anti-inflazione. Quei soldi vanno in Cina, chiaro? Perché è da lì che arriva tutta questa roba. In che modo i soldi della legge anti-inflazione vanno in Cina? Beh, stiamo sovvenzionando turbine eoliche, pannelli solari e veicoli elettrici. Molti dei materiali necessari provengono dalla Cina. Quindi, molti dei sussidi finiscono in Cina. Stiamo arricchendo la Cina. Stiamo dando potere alla Cina, perché stiamo diventando dipendenti dalla Cina. Non esiste batteria per auto elettrica che non dipenda al 100% dalla Cina comunista. Per esempio, la grafite. E per me, la guerra in Ucraina è causata dalle politiche climatiche. Dalla fine degli anni 90, con il protocollo di Kyoto, l'Europa ha iniziato a privarsi di fonti di energia. Ha smesso di estrarre carbone, petrolio e gas. Gli ambientalisti hanno bloccato il fracking. così l'Europa è diventata dipendente dal petrolio, dal gas e dal carbone russi. E ovviamente, al momento opportuno, cioè quando l'Europa era abbastanza dipendente e la Russia si era abbastanza arricchita con l'Europa, è arrivata l'invasione. Ma non sarebbe accaduto sotto il presidente Trump. Perché con Trump avevamo il dominio energetico americano e avevamo il fracking e il prezzo del petrolio era basso. All'inizio del covid, Russia e Arabia Saudita hanno fatto una guerra per la produzione di petrolio perché il prezzo del petrolio era sceso sotto lo zero, per quanto incredibile. Si doveva pagare per far prendere il petrolio. Ma arrivato Joe Biden, l'Europa ha ripreso ad arricchire e rifornire la Russia. Questi sono i fatti. Quanto alla Cina comunista noi la stiamo arricchendo, la stiamo pagando con i soldi pubblici, ci stiamo rendendo dipendenti. Se comprate un veicolo elettrico diventate dipendenti dalla Cina comunista. Così gli scuolabus, i camion per le consegne, tutto dipenderà dalla Cina, eolico, solare, non produciamo qui queste cose. Non le trasformiamo. Anche se dovessimo estrarre alcuni minerali di terre rare negli Stati Uniti, non li trasformiamo. Tutto questo avviene in Cina. Quindi, ci stiamo solo rendendo dipendenti dalla Cina comunista. Dovrebbe essere il nostro rivale geopolitico, ma nessuno in questo paese la considera veramente tale. La Cina ha l'obiettivo di diventare l'unica superpotenza al mondo entro il 2049. E noi stiamo solo facendo il suo gioco. Dalle mie fonti nei servizi, una grande preoccupazione è l'enorme influenza che il partito comunista cinese ha sull'ONU, ossia che il PCC e altri avversari degli Stati Uniti stiano imponendo questo tipo di politiche green allo scopo di indebolire e distruggere gli Stati Uniti, dando il monopolio dell'alta tecnologia, dell'energia, delle auto, insomma, di tutto alla Cina. sulla base di quello che hai visto, tu ritieni siano timori fondati? Sì, io credo che questa sia la strategia cinese. Perché andare in guerra se puoi rendere il tuo nemico completamente dipendente da te? La Cina sta rendendo gli Stati Uniti dipendente da sé e sta facendo lo stesso con l'Europa occidentale. È un tipo di guerra. l'Occidente ha imposto ogni sorta di sanzioni economiche alla Russia. L'Europa sta cercando di non comprare più petrolio. Comprano ancora petrolio e gas dalla Russia, ma di meno. Ed è arrivata la Cina. Quindi la Cina sta usando ogni opportunità, ogni mezzo pacifico per renderci completamente dipendenti e indebolirci. E sfortunatamente molti politici americani non lo capiscono ancora e se mai lo capiranno sarà troppo tardi. Ci sono già molte cose di cui abbiamo bisogno che vengano prodotte solo in Cina, come gli antibiotici. E che succede se la Cina decide di invadere Taiwan? L'America può fare qualcosa? No, perché altrimenti addio antibiotici, tecnologia solare ed eolica, auto elettriche, smartphone, eccetera. Il centro del mercato dei CIP è Taiwan. Insomma, addio tutto. Non possiamo permetterci di difendere Taiwan perché la nostra economia verrebbe distrutta. E questa è la posizione in cui ci ha messo la nostra classe dirigente. I cinesi sono molto intelligenti. Il loro popolo non avrà un tenore di vita molto alto, ma la leadership è molto intelligente. Hanno indotto il governo americano a renderci dipendenti da loro. Siamo in una situazione molto pericolosa. E anche qui stanno trovando delle scappatoie. Ho visto che hai scritto che stanno costruendo alcuni impianti in Messico per aggirare le sanzioni statunitensi. Sì, credo. L'ho scoperto solo ieri. La legge sulla riduzione dell'inflazione prevede molti sussidi per i materiali ecologici e i veicoli elettrici. Ma la legge dice che i veicoli elettrici, ad esempio, devono essere sostanzialmente prodotti in America e credo ci siano delle eccezioni per le auto prodotte in Messico. E i cinesi hanno capito come aggirare il sistema. costruiranno auto in Messico e inonderanno il mercato statunitense distruggendo le aziende automobilistiche americane. La Cina ha un'azienda emergente di veicoli elettrici credo si chiami BID e sta già superando Tesla per vendite. Entreranno nel mercato statunitense perché il nostro è un mercato aperto. Non puoi vendere auto americane in Cina ma puoi vendere auto cinesi in America e fanno concorrenza sleale distruggeranno l'industria automobilistica statunitense non che l'industria automobilistica statunitense non si stia distruggendo da sola con le sue auto elettriche. L'anno scorso la Ford ha perso 30.000 dollari per ogni auto elettrica venduta. E' incredibile qui abbiamo solo politiche scellerate fatte da politici io credo corrotti perché non c'è altra spiegazione qui. gli accordi che l'amministrazione Biden ha inserito nella legge sono davvero pessimi devono essere stati fatti apposta. E mi sembra che ci sia un po' di amnesia collettiva qui in cui si fa dimenticare alla gente anche la storia più recente. Come hai detto tu eravamo un esportatore netto di petrolio ne avevamo più di quanto ne potessimo usare e poi all'improvviso dipendiamo da Russia e Iran o dall'Arabia Saudita assurdo qual era la realtà quando con Trump eravamo un esportatore di petrolio e in che modo hanno ribaltato la situazione? Certo quindi la politica di Trump è stata liberare l'industria energetica statunitense e il fatto che l'America fosse disposta a produrre tutto il petrolio e il gas possibile grazie alla tecnologia di fracking il fatto che avessimo politici favorevoli ci aveva permesso di controllare il prezzo mondiale del petrolio con Trump avevamo tolto questo controllo all'OPEC fino a Trump l'OPEC decideva del prezzo del petrolio poi arriva Joe Biden e decide di chiudere l'industria del petrolio e del gas di distruggerla e lo aveva detto in campagna elettorale che l'America non avrebbe più prodotto petrolio e gas almeno a lungo termine questo ha riportato l'OPEC al controllo del mercato perché l'OPEC è abbastanza intelligente da sapere che nel nostro mondo non si fa nulla senza i combustibili fossili e se l'America non produrrà più combustibili fossili petrolio e gas lo farà l'OPEC e in posizione di dominio ora durante l'amministrazione Biden ironia della sorte stiamo producendo più petrolio che mai persino che con Trump ma non siamo più noi a controllare il prezzo del petrolio il motivo e questo è importante è che Joe Biden sta facendo in modo che le compagnie petrolifere statunitensi utilizzino le riserve esistenti e non permetta loro di ottenerne di nuove in pratica stiamo esaurendo il nostro mercato del petrolio le nostre compagnie petrolifere stanno approfittando dell'alto prezzo del petrolio producendo tutto quello che hanno ora ma Biden non permette loro di trovarne di nuove quindi stiamo essenzialmente esaurendo il petrolio vendendolo il più velocemente possibile questo a meno che una nuova amministrazione non permetta alle compagnie petrolifere di trivellare nuovamente le terre pubbliche per il petrolio il gas e il carbone è importante che anche la nostra industria del carbone ritorni perché noi usiamo il carbone per generare elettricità il che è molto utile perché ci rende non dipendenti dal gas naturale è importante avere questa flessibilità e il presidente Trump riporterà tutto questo e perché lo stanno facendo qualcuno ci guadagna stanno cercando di sabotare gli Stati Uniti il Venezuela sta parlando di invadere la Guyana dove è appena trovato una delle più grandi riserve di petrolio al mondo Venezuela Medio Oriente e Russia potrebbero ottenere il controllo del mercato del petrolio e noi continueremmo a comprarlo l'Europa ha provato ad affrancarsi ma continua a comprare gas naturale dalla Russia qual è il futuro? voglio dire ci stanno svendendo? ci stanno distruggendo intenzionalmente? cosa ne pensi? beh io penso che ci sia molta brutta gente all'opera ci sono molte motivazioni diverse cominciamo dal nostro governo abbiamo i Biden su cui abbondano le accuse di corruzione ma non si limita ai Biden Wall Street è molto interessata alla Cina e ha tutta questa roba green perché riceve i sussidi sui verdi americani ho scritto un libro 15 anni fa ora vediamo come i verdi stiano fondamentalmente controllando le nostre vite decidono che tipo di auto dobbiamo avere che tipo di cibo possiamo mangiare eccetera poi ci sono gli stranieri penso che la Cina sia la minaccia più grande perché vuole diventare l'unica superpotenza e sta facendo di tutto per riuscirci senza fare una guerra sta approfittando della corruzione a Wall Street e della corruzione delle nostre istituzioni si è infiltrata in ogni istituzione degli Stati Uniti lavora con governi stranieri ad esempio il Messico e non abbiamo ancora parlato di quello che sta facendo in Messico con il fentanyl insomma ci crea problemi ovunque è come se il governo americano e Wall Street non fossero più della parte dell'America ma agissero solo per il proprio tornaconto e i cinesi ne approfittano Steve Malloy hai detto cose davvero importanti grazie mille grazie a te Joshua grazie a te Joshua